C'è bisogno di una persona che possa avere un'agibilità amministrativa e politica? E' una persona che può connettersi bene con la nostra città, con i cittadini, una persona con una storia limpida, rafforza la squadra. Credo che sia stata una scelta importante che va nella direzione giusta nel governare al meglio i prossimi 11 mesi e mi può dare una grande mano nella prossima campagna elettorale. E' una persona che io stimo molto e mi sento molto sereno anche per affrontare questi momenti difficili di epoche, come dicevano i greci. Sospensione dal giudizio per chi magari non conosce il greco perché poi non tutti lo conoscono.